Lo stadio San Siro è considerato la scala del calcio. Grazie al suo stile iconico e spettacolare, San Siro è uno dei simboli di Milano ed è stato nominato il secondo stadio più bello al mondo dal prestigioso quotidiano britannico The Times. Teatro dei numerosi successi delle squadre di casa Inter e Milan, San Siro è oggi anche lo stadio più titolato al mondo. Capolavoro dell'ingegneria e dell'architettura italiana e con oltre 85 anni di storia, San Siro è un mito che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. Con i suoi attuali 79.934 posti, è il quarto stadio europeo per capienza complessiva e ogni anno può contare su più di 4 milioni di visitatori. Oltre a Milan e Inter, San Siro ha visto scendere in campo le più importanti squadre al mondo. Ma San Siro non è solo calcio e anche molto di più. Parcoscenico dei più grandi concerti, luogo di grandi eventi e spettacoli, meta di pellegrinaggio per i turisti di tutto il mondo e molto di più. San Siro è sempre aperto e vive ogni giorno perché San Siro is more than football. San Siro ospita il primo museo allestito all'interno di uno stadio di calcio. L'esclusiva esposizione racconta la storia e i successi delle due squadre milanesi attraverso una raccolta di cimeli unica al mondo. Dopo questo tuffo nei ricordi più esaltanti, il tour di San Siro prosegue offrendo una visione di insieme da brivido. Percorrendo gli spogliatori, le tribune e la sala interviste, si ha l'opportunità di apprezzare tutto lo splendore di una delle strutture sportive più belle al mondo. Ogni giorno a San Siro è possibile effettuare visite guidate di gruppo o private con il vantaggio di poter acquistare i biglietti d'ingresso anche online con ulteriori sconti. Pensate che il museo di San Siro è il più visitato della città durante il periodo estivo e il secondo in assoluto. A San Siro si parlano tutte le lingue del mondo. È infatti possibile effettuare il tour e la visita in inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, cinese e indonesiano. San Siro è una delle mete preferite dei turisti stranieri. I più rappresentati sono gli olandesi e nell'ultimo periodo anche cinese, arabi e brasiliani sono in notevole aumento. Con gli oltre 220.000 visitatori annui, il museo di San Siro è un fenomeno in continua ascesa con un tasso di crescita annuale che spiura il 30%. San Siro vive ogni giorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.